Ho messo la prima cosa che ho trovato, fateli un applauso solo per me. Grazie! Oh, allora, mi sentite se sei messo qui in tiro per questa occasione speciale. Ho messo in tiro per questa occasione speciale. Sei venuto a piedi praticamente. Si, 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 dopo spiego perché e una serie di cose. Prima ti ho visto tra l'altro quelle brasiliane in giro, non sono molto a te, però era giusto per conoscere. No, i gay sono orgogliosi dell'orgoglio gay, io l'orgoglio etero. Le sbagliate? No. L'acqua va alla bassa o va in su? Un in baiò. Senza baiò la va in su. Viva l'acqua che va in giù! Oh, tra l'altro poi, lui non vedeva l'ordine qua perché comunque è a casa. Io ci sei. Può fare quello che vuole, eh. Senti un po', prima passando... Quello che vuole fino a un certo punto, non sono mica di manica larga i cesenati, eh. in bella. Se sgarri devi stare attenti. Eh, sono un po'... Eh, uè, sono... Sì, sì. Senti un po', prima, passando tra l'altro dalla zona ristorazione, insomma, ho visto un libro. L'hai scritto? L'hai scritto tu? L'hai scritto tu? Allora, sono... Ci ho messo sei anni a scriverlo, è un romanzo. Quando il comunista di quello dei pedalò che nel 91, la Lega, la riva la Lega, il PC cambia nome, Guetta, PDS, lui va a Cume e dice il silenzesso, Guetta. E quella è la storia che noi interrogano e il come eravamo dal 53 al 91. Dopo il Tot Francisco, i telefonini, tutto uguale. Sennò i nostri figli, non i miei che non li ho, ma i figli, non sanno quale è successo prima del telefonino. O no? Non lo so. Eh, infatti, prima la tecnologia non c'è, eh, perché... No, le auto usate, l'imbrocamento delle donne, adesso ti va con internet una volta? Se ti vuoi fare una cultura, tocca a te, lezzi libera, non so io, costa 15 euro? O no? Non lo so! Perché noi... Un applauso, dai, vai che... No, ma guarda, adesso... Adesso smettere di ridere... Devo spiegare, devo spiegare... Morino, tu sei una colonna, ti devo spiegare delle cose. Adesso mi devi dare mano libera che io devo spiegare. Io faccio parte di quelli che abbiamo fatto... Come sono diventato così? Devo spiegare. Quelli della notte, 32 anni fa... Eh, bisogna fare un applauso arco. Vai, vai, vai! Quando è che lo rifate? Speregno preso, però non è facile, il mondo è cambiato. Fanno tutti preconfezionati, predigeriti, premangiati. Le fadighe, come dicono a San Mauro, le fadoiga. E San Mauro è un'isola culturale, tutelata dall'UNESCO, che non hanno mai visto l'uomo bianco. Sveta per sé. La cingra soida. La cingra soida. La cingra soida alla matoina. Quindi, da quelli della notte, io di la verità, noi come Cesena... Io ho ottenuto da andare in Russia, avevo anche la nomina... Come spionaggio, siete scoperti nella Romagna, vai te! Il Mamma Andemè, dopo Arbore mi ha rovinato, perché è andato a dire che sono comunista. Mi ha bruciato la copertura. Io ho dovuto dire che ero venditore di Pedalò, lui ha detto, no, di che sei comunista. Un Marvinè. Famoso, quello è stato un bene. Solo che con la sessione, adesso vi dico, sapete perché ci siamo divisi da Renzi? Non lo sapete. In una riunione a porte chiuse la settimana scorsa, Renzi ha detto, adesso il PD non farà più le sezioni, farà il franchising. Quando Alema la sentì il franchising, l'ha detto, no. Men c'è il forno. No, ti chiami il forno, poi fai il franchising. Presto faranno il franchising. Allora ho detto, noi veniamo fuori. Dopo, sono cose che adesso intanto non ci siete nessuna Cesena. colarci lingue, io ho imparato sia il russo che l'inglese. Era un programma, si chiamava Impara la lingua del nemico. Dopo ha detto, dato che c'è Trump, te ti butti da cantante country. Dopo col tempo sei sfondito, andrei in America. o no? Non lo so. Lo sai te. Sembra scherzare, però io ho convinto Elio delle storie tese. Si chiama Stefano Belisari, che ha due gemelli. Uno ci va tanto, uno ci mulisce. Dopo, vuoi dire quando si fanno grandi con due nomi così? Se non vanno, se non scoprono l'America, se succeda. E Maurizio Fabrizio, che è l'autore del brano della Mannoia di Sanremo, brano di Albano di Sanremo, almeno tu nel universo di Mia Martini, i milionari della nostra vita di Renato Zero, ha scritto un brano per me, per la Romagna. Io lo rovino un po' purtroppo, un po' lo rovine. Per forza. So Cisena. Cioè, non sono all'altezza. Dovete capire che io cantavo sotto la doccia. In un mese ho rubato, mi ha prestato Renzo Arbori, il suo produttore musicale, che si chiama Adriano Fabi, che è quel signore col cappello di pelle che mi sta riprendendo, zio di Nicolò Fabi, marito della sorella, quindi rimane in famiglia, però mi ha prestato il produttore musicale. E io, in un modo e l'altro, ho detto io voglio dedicare un inno alla Romagna. Perché da Romagna in poi bisogna tenerla su, la Romagna. Perché fanno sempre i fichi, ci fanno vedere come dei cretinetti, le donne nude, le pat... E basta, non può da più. La Romagna gli va adatta la sua dignità o no? Non lo so. Questa canzone l'aspetta lui per la Romagna, è per voi eh, attenzione. La scritta... Io con... Io gli ho dato le patologie. E io viene al mare a Bellari e a Marina. Quindi dobbiamo dargli la cittadinanza onoraria. Solo è venuta Milena a Igea Marina. Lo sta studiando il fenomeno. Potendo scegliere bene Igea Marina. Quindi, io voglio dedicare questo brano alla Romagna, a Cesena, che la mia città natale, torno come cantante. Un po' mi vergogno, ha detto tra noi, alla Romagnola, a Margò, perché sono ragazzo timido. Però, mi butto perché il brano, non perché l'ho fatto io... Non ci vogliamo sentire. L'è bello, l'è bello. Io l'ho sentito. Sono ragazze... Volevo dire una cosa. Questi due ragazzi... Ragazzi... Guarda, è nato un sentimento. No, no, no. No, io non c'ho niente contro i gay. Se non mi fanno niente, io non ci faccio niente. Se mi danno dimorso, no. Cosa c'è? Ci sono anche i quelli della Massa Italia che sono anche meglio di noi qualcuno. Eh, sì. Io non sono mica razzista. Ma come ti sei fatto grande? Ma non dici niente? No, facciamo una cosa. Dì una bella poesia. Ditti una bella poesia per uno, dai. Comincio tu. Dì una poesia, dai. Se adesso noi andiamo... Ecco. Facciamo una cosa buona e lo lasciamo da solo... O no. Non lo so. Allora andiamo. Andiamo. Maurizio Ferrini, va. Grazie. Allora... Pronti con sottofondo musicale? Messo di campanile, vai.